Sì, pronto. Sì, dimmi. Ah. E dove? Ma questo non ci aiuta, Cristina. 9x21mm praticamente ce l'hanno tutti. E lo so anch'io che ci servirà quella pistola, ma non l'abbiamo. Morto di sanguato. Va bene, grazie, grazie. Ciao. 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 Già, forse per altre cose. Aspetta, aspetta, una foto, una foto. Vai. Eccola, eccola. Vai. Eccola, eccola. E' meglio se ti lasciamo andare. I buoni non vincono mai, papà. Ti ho fatto credere questo? Non è così? Tu sei buono, no? Non lo so. Io ho sempre cercato un modo di vivere bene anche in un posto così. Dove succede una cosa così brutta. Non l'ho trovata, ma sono anche stancato di cercarla. Deve essere andata così. Sapevo che fumo. Non devi lasciarmi fumare se non vuoi. Fa male, lo so. Se fa male. Vai a te vestire. Se ne macina. E' Grazie.